Gli appassionati di LittleBigPlanet non sono rimasti molto felici quando hanno saputo che lo sviluppo del terzo capitolo è stato affidato non più a Media Molecule ma ai ragazzi di Sumo Digital. Il rischio è infatti quello di trovarsi di fronte ad un capitolo meno brillante dal punto di vista creativo. Per vederci chiaro ci siamo tuffati nella beta di LittleBigPlanet 3, comprendente oltre 400 livelli creati dagli utenti con il nuovo toolkit e un piccolissimo assaggio della modalità storia. Abbiamo fatto pirouette su piccole piattaforme di legno, abbiamo evitato le forchette appuntite e le piastre roventi di una rustica trattoria, abbiamo saltato gli ostacoli di un ippodromo giocattolo in groppa al fedele Oddstock, ma abbiamo anche giocato ad un surrogato di asteroids, ad improvvisati platform isometrici, brutti cloni di Tempor Run e improbabili puzzle game. Tutto questo grazie alla fervida immaginazione dei più creativi membri della fanbase, alle prese con un editor dei livelli ben più permissivo di quelli visti in passato. Il nuovo toolkit infatti, oltre a permettere l'aggiunta di trailer, menu personalizzati e altri orpelli, rende possibile lo sviluppo degli stage anche lungo l'asse Z, sfruttando ben 16 livelli di profondità contro i 3 dei titoli precedenti. È così che mentre gli stage dello story mode paiono incentrati su una concezione più classica di platform, con tanto di caratteristici massi rotolanti, piattaforme che si sgretolano, meccanismi a tempo e wall jumping come se piovesse, i livelli amatoriali sono molto più particolari. Ce ne sono alcuni in cui si controllano i comprimari Oddstock e Swoop. L'agile bestiola a quattro zampe, l'unica in grado di eseguire doppi salti spingendosi su un muro, si è mostrata parecchio reattiva ai comandi e adatta alle fasi di gioco che più si avvicinano a quelle dei platform vecchia scuola. Mentre qualche dubbio resta riguardo il volatile di pezza, impacciato nei movimenti e poco gestibile negli ambienti più stretti. La presenza di livelli dalla più vasta profondità, oltre a scatenare le prodezze di sviluppatori e amatori in un level design più complesso e contorto, lascia spazio anche a soluzioni di continuità spettacolari e di forte impatto visivo. Un'ulteriore aggiunta alla varietà del gameplay è data dall'utilizzo in gioco del pop-it e in generale degli strumenti tipici dell'editor, per risolvere piccoli puzzle ambientali, modificando direttamente alcuni elementi strutturali del livello. Tutto filerebbe liscio, se non fosse per alcune perplessità che purtroppo si riconfermano in questa beta. Abbiamo esaminato a fondo l'unico livello ufficiale presente, e ci spiace confermare quello che già sospettavamo dinanzi al materiale precedentemente mostrato. Sebbene la community non smetta mai di stupirci con creazioni esteticamente sublimi e trovate singolari, la direzione artistica di Sumo Digital si è mostrata parecchio sottotono e poco ispirata. Tuttavia, il materiale firmato dai nuovi sviluppatori finora visionato è talmente esiguo da rendere avventato qualsiasi giudizio. Con le giuste attenzioni riguardo l'evoluzione del gameplay e alcune sorprese nel level design, LittleBigPlanet 3 potrebbe rivelarsi uno dei titoli riportati in grassetto nella line-up invernale di Sony. Il primo sguardo alla versione preliminare di LittleBigPlanet 3 ci ha sorpresi positivamente riguardo alcune delle aggiunte al gameplay e alle enormi potenzialità in essere acchiuse. Tuttavia, qualche incertezza permane, soprattutto riguardo una direzione artistica poco ispirata, che risente fin troppo dell'assenza del tocco di Media Molecule. Nonostante il discreto calo di interesse per il terzo episodio della serie, il buon Sack poi potrebbe trovare degli insospettabili sostenitori, soprattutto fra gli amanti dei platform di stampo classico.